Mi chiamo Alberto, sono il fratello di Dario, ho 22 anni, sono nato il primo agosto del 1996, lavoro anch'io nell'azienda di famiglia, nell'agriturismo, mentre Dario ha la passione per gli animali, io coltivo la mia passione per la musica, ormai sono quasi 8 anni, se non 9 che suono e scrivo canzoni, e ho fatto tanti contest musicali, però il più importante secondo me è quello che ho fatto a Camogli, che è stato organizzato da Massimo Morini, in cui sono stato scelto da Enrico Ruggeri, ed è stato un grande traguardo per quanto riguarda il mio campo musicale. Ho scritto un pezzo che insieme a mio fratello, che è stato portato poi in giro per varie piazze e vari palchi, che si chiama Summer Paradise, e l'abbiamo scritto in un'occasione abbastanza particolare, perché eravamo in camera, abbiamo deciso di scrivere un pezzo, e di punto in bianco, aprendo la finestra, abbiamo sentito il rumore dei giuccellini che ci inguettavano, e abbiamo visto quell'immagine dell'estate che tanto ci piaceva, e abbiamo scritto poi il pezzo, che è questo qua. Il sole che viene, luna che fa, il fiume che spende, in la città, vedi la gente, il rumore che fa, muovi il pensiero di tutte le età, di stare alle ponte, con che la rietà, che già dal monte, quest'epoca fa, Summer, Summer Paradise, e che fa, Summer Real Paradise, Lasciati quindi da questa canzone Nel giro di giorni sarà un tormentone Non perdere tempo e neanche passione Da alga e il cemento si accende un motore Che fa Summer Paragas Che fai Summer in your place Non perdere tempo e neanche passione O non perdere tempo e neanche passione Il mondo è vento che fa, sa ma faglia è che fa, sa ma lusine a paz. Il mondo è vento che fa, sa ma lusine a paz.